buongiorno da mosca marc bernardini oggi è martedì 28 aprile 2020 in tempo reale sono le 17.35 ora di mosca 16.35 in italia riunione del presidente putin con i governatori regionali il ministero della sanità e il servizio federale per il controllo della protezione dei diritti dei consumatori e del benessere umano mia traduzione simultanea dell'intervento iniziale di putin le cifre stanno crescendo continuamente gli apparati di ventilazione artificiale all'inizio dell'anno erano 60 70 unità al mese in aprile più di 800 a maggio saranno 2500 la produzione di mascherine è aumentato di 10 volte da 800 mila al giorno a 2 milioni e mezzo in aprile in russia da zero si è organizzata la produzione dei medicinali con riferimento al coronavirus per quanto riguarda i sistemi di collaudo di test è aumentato di 9 volte se all'inizio di marzo in russia si facevano 2500 test adesso sono circa 150 mila al giorno la crescita è di 60 volte e continuerà a crescere a maggio ce n'erano 100 mila certo rispetto a quello che era poco tempo fa è tanto ma rispetto a quello che accorre adesso è ancora poco non è sufficiente i costumi per gli infermieri e il personale medico per coloro che lavorano nella zona più pericolosa una cosiddetta zona rossa si sta iniziando ex novo nonostante tutte queste misure la produzione e l'acquisto di importazioni da un punto di vista di macchinario di materiali di consumo viene mantenuta quindi affido al governo al ministero del commercio di continuare a organizzare il lavoro in modo tale che ogni giorno cresca la produzione chiedo di assicurare un controllo rigido sulla realizzazione di questi piani utilizzare le possibilità delle varie regioni e delle piccole e medie imprese siamo riusciti a a crescere eh il sistema eh della eh sanità pubblica è stato posto come obiettivo alle regioni per il ventotto di aprile di sviluppare novantacinque mila eh posti letto supplementari muniti di tutto quello che è necessario per la cura del coronavirus le informazioni relative io le ricevo quotidianamente so che mh fondamentalmente tutto si fa per tempo ce ne sono ormai sedici mila eh di questi posti letto cioè ben più di quelli che erano stati eh previsti ma questo è il quadro generale l'importante è che in ogni regione ci sia la possibilità di lottare per la vita di ciascun individuo cioè non bisogna fare che da qualche parte ce n'è da che da altre parti non ce ne sono un'altra cosa che ritengo importante l'epidemia tutto il mondo si è scontrato per la prima volta e adesso grazie ai licenziati i medici sappiamo di questo eh malattia pericolosa molto più di quello che sapevamo poco tempo fa e quindi abbiamo la possibilità di costruire di prevedere di fare la strategia in maniera più efficace inoltre il no la nostra esperienza personale anche all'estero di lotta all'epidemia ci dice che la le decisioni prese ieri già domani dopo domani potrebbero non essere sufficienti quindi affido al ministero della sanità di monitorare continuamente la situazione sia nel paese sia in ogni singolo soggetto della federazione attualizzare continuamente i propri piani considerando che la situazione cambia praticamente ogni giorno ripeto dobbiamo agire preventivamente come abbiamo fatto finora e se sarà necessario intraprendere misure di nuovi posti letto supplementari laddove magari in questo momento ci sono delle riserve in futuro potrebbero non essere sufficienti bisogna essere pronti a qualsiasi sviluppo mi rivolgo anche ai dirigenti delle regioni se il vostro piano di sviluppo dei posti letto è stato realizzato non vuol dire affatto che dovete fermarvi fateci sapere utilizzate qualunque possibilità per accrescere le risorse le risorse e le possibilità e la sanità in regione senza aspettare gli ordini dall'alto un'altra cosa di principio importante adesso la presenza di posti letto è un po un punto importantissimo ma per lottare con efficacia contro l'epidemia bisogna attivare tutto il sistema della sanità se da qualche parte qualcosa non funziona se mancano i quadri gli specialisti sono eh lavorano troppo né eh ne soffrono le persone non hanno gli aiuti per tempo si trovano quindi in ospedale con gravi già conseguenze in atto quindi tutto deve essere eh eh studiato come un meccanismo unico eh i trapeuti gli specialisti eh i reparti di diagnosi le eh i servizi d'emergenza tra l'altro so che proprio oggi il ventotto aprile è la festa non ufficiale delle eh ambulanze voglio in questo senso congratularmi fare gli auguri a tutti i medici ai agli autisti ringraziarli per questo lavoro così importante per le persone in questi giorni così tesi state dimostrando grande coraggio e le vostre capacità umane e penso che sarebbe giusto proprio in questo giorno eh stabilire una festa professionale e eh lavoratori della eh delle ambulanze è evidente che le forze principali in questo momento le indirizziamo alla lotta contro il coronavirus ma purtroppo nessuno può eh annullare le altre malattie cardiovascolari oncologiche altre eh malattie croniche non possiamo abbandonare eh gli altri eh malati dire aspettare nonostante la situazione straordinaria le persone devono avere tutti gli aiuti necessari per sostenere l'economia le famiglie russe eh conservare eh i redditi abbiamo eh intrapreso una serie di misure abbiamo stanziato le risorse inedite in questo senso decisioni prese nel giro di poche ore sono alla base dei progetti di legge che entreranno in vigore subito dopo questa riunione operativamente bisogna organizzare il lavoro per realizzare poi questi progetti di legge quindi i capi delle regioni sono personalmente responsabili sottolineo le decisioni saranno considerate realizzate solo quando le persone hanno avranno eh tutti gli stanziamenti previsti fino a che ci saranno i problemi anche singoli del singolo individuo il controllo non verrà interrotto finalmente la cosa più importante il momento chiave che volevo dire eh sulla base delle settimane trascorse siamo riusciti a rallentare la diffusione dell'epidemia e questo è il risultato del nostro lavoro congiunto della responsabilità di milioni di persone di cittadini che hanno ascoltato le raccomandazioni dei medici eh perché appunto pensano anche alla salute dei loro vicini i casi quotidiani di eh contagiati si è relativamente stabilizzato questo non deve tranquillizzarci la situazione continua a essere molto complessa i specialisti gli scienziati e noi siamo in continuo contatto con loro ci dicono che il picco non è ancora superato siamo di fronte a una tappa nuova probabilmente la più tesa di epidemia i rischi di contagiarsi stanno eh aumentando c'è ancora la possibilità di contagiarsi e questo può riguardare ciascuno di noi e proprio in tal senso su quello che ci occorre ancora fare tutti insieme ne voglio parlare separatamente tutti noi abbiamo bisogno di raccoglierci disciplina e mobilitazione dobbiamo far sì che l'epidemia vada scemando questo ci darà la possibilità in futuro passo dopo passo eh di eh togliere le limitazioni e quindi tornare a una vita normale ovviamente tutti noi abbiamo nostalgie di questa vita normale tutti aspettiamo ma più saremo rigidi noi cittadini della Russia nel rispettare questi requisiti più manterremo le regole di auto isolamento e quarantena e più rapidamente tutto ciò passerà certo tutti vorremmo che finissero al più presto queste limitazioni ma confidare che la minaccia adesso è minore e quindi questo non ci riguarderà sarebbe irresponsabile e pericoloso in questo senso ho eh preso le seguenti decisioni primo abbiamo davanti eh tutte le feste di maggio tra di loro ci sono dei giorni di lavoro il sei sette e otto maggio sappiamo che anche in una situazione normale molti non lavorano poi in questi giorni eh se li prendono comunque di ferie adesso a maggior ragione non si può rischiare quindi ritengo giusto eh annunciare questi giorni come festivi mantenendo gli stipendi considerando tutte le feste di maggio il periodo delle festività continuerà fino all'undici maggio compreso però attiro la vostra attenzione mantenendo tutte le misure profilattiche eh adottate in questo momento nelle regioni secondo eh i capi delle regioni eh avranno eh manterranno le loro possibilità eh supplementarie di nuovo attiro la vostra attenzione cari colleghi bisogna eh agire conformemente e eh alla situazione attuale nelle singole regioni non si possono prendere regioni non si possono prendere decisioni eh come fotocopia eh uguali in tutte le regioni questo potrebbe solo inficiare e portare dei danni terzo ci rendiamo conto che la situazione nelle regioni si va sviluppando in maniera diversa qualcuno si è scontrato con l'epidemia prima tra i primi da qualche altra parte eh è successo più tardi le limitazioni l'elenco delle misure sono quindi diverse dobbiamo considerare tutta la complessità di questi processi esattamente come il fatto che quando nel paese il picco dell'epidemia sarà superato in singole regioni magari la situazione rimarrà ancora tesa la minaccia non non scomparirà dappertutto eh contemporaneamente quindi parlare di un eh annullamento delle limitazioni dappertutto subito è impossibile dobbiamo renderci conto che abbiamo davanti un percorso complesso dove bisogna considerare tutti i rischi avere il buon senso la responsabilità eh eh in maniera da non tornare indietro per non perdere tutto quello che con tanti sforzi abbiamo raggiunto in queste ultime settimane e in questo senso affido al governo e al servizio federale insieme al gruppo di lavoro del Consiglio di Stato entro il 5 maggio di preparare delle raccomandazioni e cioè dei criteri dei parametri dei passi successivi passo dopo passo per uscire a partire dal 12 maggio eh del per uscire dalle limitazioni naturalmente a seconda e la situazione epidemiologica eh di quel momento e delle previsioni sottolineo che queste raccomandazioni i soggetti delle federazioni devono riceverli prima quindi entro il 5 maggio in maniera che poi le regioni abbiano ancora una settimana per coordinare le proprie azioni entro l'11 di maggio quindi come prima avranno eh spazio per le manovre per delle decisioni autonome per eh adottarle eh in maniera adeguata sul posto in situ consultandosi con gli specialisti in alcune regioni sarà necessario magari mantenere delle misure rigide in altre magari considerando pure tutti i vari rischi ma insomma cominciare a ridurle considerando la possibilità eh di eh togliere pian piano il regime di auto isolamento considerando appunto poi la produzione cioè il lavoro eh industria edilizia agricoltura ripeto bisogna mettersi in testa che abbiamo di fronte un processo complesso e che non è veloce come noi vorremmo ma non si può anticipare i tempi per non tornare indietro finalmente quarto punto l'epidemia ha colpito fortemente l'economia e il business gravi problemi dei singoli imprenditori eh delle partite IVA eh magari nello sviluppo delle proprie attività che le persone ci hanno messo anni dobbiamo sostenerli di dargli la eh sicurezza del futuro quindi affido al governo rapidissimamente di elaborare un nuovo pacchetto di misure di sostegno all'economia e ai singoli cittadini non finisce qui chiedo al governo insieme alle regioni e al business di cominciare a preparare eh la prospettiva di un piano nazionale di attività per normalizzare la vita per ricostruire l'occupazione i redditi la crescita dell'economia bisogna cominciare a lavorare su questo immanentemente già adesso e consolidare eh in questo senso eh il lavoro per eh perché questo programma sia completo bisogna eh cercare appunto di uscire in maniera sincrona da tutte le limitazioni sottolineo che eh l'obiettivo strategico di questo piano non è solo quello di stabilizzare eh ma di assicurare dei cambiamenti a lungo termine dell'economia compresi compresa la situazione che in questo momento c'è nel mondo e in questo senso quindi do la parola al eh eh capo del servizio federale noi con questo terminiamo la nostra traduzione simultanea ripeto Mark Bernardini da Mosca eh sono le diciassette e cinquantadue di Mosca le sedici e cinquantadue eh in Italia a presto risentirci grazie a tutti